Per la rubrica scientifica di Zona Zani, la sella della Vespa di Luana, seconda puntata. La sella della Vespa di Zona Ciro è ormai un feticcio ancestrale venerato dalla tifuseria bresciana che segue costantemente la trasmissione. Famose le sbirciate degli ospiti alle sgherle o sgarle a seconda della zona di Luana che lievemente e sempre molto coperte vi si appoggiano sopra. Inquietante è lo sguardo di Inselvini che per colpa del torcicollo è costretto tutte le volte a numeri da contorsionista cinese per non farsi scoprire a guardarle. Come sempre molti e fantasiosi i commenti e gli sms su questa specie adagiata sulla sella. Variopinte e con tacco discreto sono sempre le sue scarpe che in nessun modo attizzano la fantasia maschile. La domanda di oggi è Luana, prima di uscire di casa per venire in trasmissione, si mette addosso alla prima cosa che trova o si veste in tinta alla sella? Ma forse lo scopriremo alla prossima puntata.